Piacenza non dimentica le vittime della tragedia ferroviaria del gennaio del 97, quando un pendolino proveniente da Milano uscì dai binari all'ingresso della stazione e ribaltandosi persero la vita otto persone. Domani, nel ventunesimo anniversario del drammatico incidente, alle 10.45 verrà celebrata la messa presso la sede del dopolavoro ferroviario alla presenza dell'assessore Paolo Mancioppi in rappresentanza dell'amministrazione comunale. A seguire gli interventi delle autorità e l'incontro con i familiari delle vittime, poi la benedizione della stele posta a ricordo della tragedia. L'incidente, come è noto, si verificò all'uscita del ponte ferroviario sul Po alle 13.26 del 12 gennaio del 97, quando il pendolino ETR 460 in servizio sulla tratta Milano-Roma, con 167 passeggeri a bordo, deragliò. Nell'imboccare la curva a circa 400 metri dalla stazione di Piacenza, la carrozza di testa si ribaltò su un fianco, colpendo poi alcuni pali di sostegno e spezzandosi in due. Di quelle successive, sei furono trascinate nel deragliamento e solo le ultime due rimasero sul binario. Il bilancio fu molto pesante. Morirono i due macchinisti in servizio, due agenti della Polfer, una hostess e tre passeggeri. A bordo del treno si trovava anche il senatore a vita Francesco Cossiga, ex Presidente della Repubblica, che uscì illeso dall'incidente. Grazie. Grazie.